I carabinieri forestali del reparto Parco Nazionale dell'Altamurgia hanno portato a termine una specifica campagna di controlli che ha interessato l'intero settore agrituristico. Le verifiche hanno interessato il possesso dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività, l'idoneità sanitaria dei locali di somministrazione, vendita e ristorazione, il rispetto dei posti di ricettività assegnati e le autorizzazioni edilizie di conformità urbanistica e paesaggistica. Particolare attenzione è stata rivolta alle normative nazionali ed europee sulla qualità e tracciabilità di prodotti ed errate alimentari, verificando provenienza, etichettatura, scadenza e modalità di conservazione del cibo. I militari hanno pertanto riscontrato alcune irregolarità di rilevanza penale, per questo hanno proceduto a deferire alla magistratura sei soggetti per i reati di abusi edilizi, di frode nell'esercizio del commercio, furto di acqua pubblica, preparazione e somministrazione di alimenti in cattivo stato di conservazione e ricettazione di merce rubata in osservanza delle disposizioni impartite dall'autorità. Sotto sequestro sono finiti alcuni immobili abusivi, oltre alle merci provenienti da furto, prive di tracciabilità per un totale di oltre 500 kg di prodotti da forno e formaggi. Con la collaborazione del personale ASL è stata chiusa ad Andria una struttura agrituristica per carenze igienico-sanitarie. Sotto il profilo amministrativo, a vario titolo, sono stati elevati 77 verbali amministrativi per circa 100.000 euro di sanzioni. Grazie.